Parto subito chiedendovi scusa della qualità del video, ma purtroppo la wifi mi ha abbandonato questa sera e devo caricare il video con una qualità minore, altrimenti i giga non vanno. Chiedo umilmente perdono. Fatta questa piccola premessa, questo piccolo preambolo, ragazzi miei, io sono ancora in estasi da ieri sera. Sono ancora in estasi da ieri sera, nonostante ci stiamo avvicinando alla partita di domenica a mezzogiorno con il Cagliari. Ma perdonatemi se io non riesco a staccarmi da quello che è stata la partita, perché secondo me ieri è stata la partita. E c'è stata un'immagine, una foto che mi ha veramente estasiato, mi ha colpito e mi ha tramortito veramente dentro, mi ha sconvolto in maniera positiva. Un qualcosa che non vedevo da tantissimo tempo, un qualcosa che leggevo negli occhi delle persone che sono state fotografate e che non posso spiegare. O meglio, posso provare a spiegarvi quello che ho provato e quello che sicuramente significa questa foto. Ma prima di parlarne, ragazzi, buongiorno, come state? Spero state bene, spero abbiate passato una bellissima giornata. Spero possiate passare, scusate, una bellissima giornata. E voglio sapere la vostra, mi raccomando. Ditemi la vostra nei commenti, vi vedo molto attivi, continuiamo così perché mi piace un sacco vedere. Io magari non riesco a rispondere a tutti, ma cerco di leggervi tutti e vi leggo tutti, che sia chiaro. Io vi leggo tutti. Poi magari non rispondo, però ci sono. Io vi leggo tutti, mi raccomando. Quindi rimaniamo attivi, commentate dicendomi le vostre, dicendomi la vostra, ecco. Perché è un tema molto caldo questo. In più fate quello che volete, mi raccomando. Iscrizione, like, dislike, ormai lo sapete, no? Fate quel cazzo che volete, come vi dico ormai da quando ho aperto il canale YouTube. Allora ragazzoli, innanzitutto ci tengo a dirvi, a scusarmi, perché nel video di oggi non vi ho tralasciato l'infortunio di Nico González. Un altro infortunio molto importante. Un infortunio che non ci voleva, però purtroppo è capitato. È capitato e dobbiamo farci conti. Dobbiamo farci conti perché è un infortunio molto pesante, o meglio, molto bastardo. Certo è, si sapevano, quando vai a prendere Nico González a cosa andavi incontro. Un giocatore molto fragile fisicamente, un giocatore che muscolarmente non rense troppe partite. Si sa, si sa ragazzi miei. Non è che lo sapevi a cosa andavi incontro. Sapevi i precedenti, sapevi lo storico del giocatore. Questo giocatore qua è Croce Delizia, no? Cioè, sai che può farti a partita della vita, però allo stesso tempo sai che può fotterti fisicamente. Ed è quello che è capitato ieri sera. Quindi mi dispiace, mi dispiace molto. Un mese starà fuori e posso dire, guarda, ti dico, da una parte va bene anche così. Cioè, almeno sappiamo che va bene così un paio di cazzi. Se sarebbe stato meglio, no. Che non fosse successo niente, che non sarebbe successo niente. Però, diciamo che questo infortunio viene anche durante la pausa delle nazionali. Quindi, diciamo che preserviamo i giocatori e evitiamo che vada l'incontro ad infortuni inutili in gare, praticamente. Non dico inutili, ma quasi. Come sappiamo quante sono bastarde le nazionali, no? La sosta delle nazionali. Quanto è bastarda questa sosta e che cosa può portare. Quindi, diciamo che adesso anche là davanti siamo un po' corti. Siamo un po' corti e bisognerà vedere se Tiago Motta riuscirà a capire come impostare la situazione. Perché UEA è infortunato, Nico Gonzalez è infortunato. Quindi, fino sicuramente per una partita, barra 2-3, ci sarà soltanto Nico. Ci sarà soltanto Consensau. E bisognerà cercare di preservarlo, questo povero Cristo. Preserviamolo, perché è dannatamente importante. Già dopo Kalulu, già dopo Bremer che si è spaccato, abbiamo un problema anche dietro. E poi parliamo anche di questo in questo video. Quindi Consensau dovrà dare il meglio di sé e sarà abbastanza tosta. Sull'argomento invece Bremer, il possibile sostituto, ieri Romeo Gresti ha twittato che la Juventus non sta prendendo in considerazione nell'opzione di ingaggiare un altro giocatore in difesa, o meglio, al momento. Si vedrà nel mercato di gennaio. Ergo, tutti i vari parametri di zero che avevamo ipotizzato ieri pomeriggio, dimenticateveli. Perché la Juventus adesso cercherà, o meglio, per ora proverà ad andare avanti così. Situazione che si evolverà nella prossima ora. Perché se magari ti capita l'occasione, o meglio, la Juventus vi dico io cosa vuol fare, ed è quello che secondo me è la scelta più corretta. cercherà di arrivare fino a gennaio, e a gennaio si cercheranno delle opzioni ottime. Delle opzioni ottime che possono essere anche utilizzate e valorizzate nel futuro. Sia chiaro. Siccome si cercherà seguendo quest'ottica. Vero è che qua vi opongo la domanda. Ragazzi, ma... E Rugani? E Rugani? Rugani non avrebbe fatto comodo? Non avrebbe fatto comodo? Certo, magari non è proprio adattissimo al gioco di Tiago Motta, però un po' mi dispiace, perché poteva fare tranquillamente comodo. Poteva far comodo. E sarà da vedere, no? Sarà da vedere che cavolo si inventeranno, che cavolo si inventeranno. Quindi per ora, niente acquisti. Ma arriviamo al tema. Al tema della giornata. Al tema del video, che vi ho messo anche in copertina. Quella foto. Quella foto, ragazzi, mi ha... Quella che ho messo in copertina, mi ha letteralmente stupito. Mi ha instasiato. E mi ha colpito dritto qua. Dritto al cuore. Perché da tantissimo tempo. Quell'abbraccio fatto da Tiago Motta con i ragazzi. Vedere Tiago Motta, che esulta in mezzo a tutti i ragazzi, è un qualcosa che a me rende... Veramente felice. Ma veramente, da tifoso vedere queste immagini, è un qualcosa che non può... Che soltanto se provate le mie stesse sensazioni potete capire. Da quanto tempo è che non si vedeva questo? Da quanto tempo è che non si vedeva questo? E finalmente, finalmente è tornata la passione. Finalmente anche nei giocatori si vede quella rabbia, quella voglia di divertirsi. Ed è bello vedere che l'allenatore è il primo a voler trasmettere questa mentalità vincente. È il primo a mettersi in gioco. È il primo ad andare su tele con la squadra. E quando c'è questo, fai vedere quanto in realtà il gruppo si è unito. Quindi anche i vari screzzi che magari possono essere inventati. Non so, magari tagliare sui scontento perché non gioca. Non mi pare. I giocatori sono tutti uniti in una sola direzione. Ed è un qualcosa veramente di bello, di magico. Veramente. Io ieri, due giorni fa, quando ho visto l'esultanza di Tiago Motta, il primo ad andare a abbracciare con Sinsau, io non ho retto. Poi si è preso anche un bernoccolo e ci ha scherzato pure in conferenza stampa, dicendo che per fortuna non c'è stato il VAR. Tiago Motta, eh. Tiago Motta ha scherzato dicendo che per fortuna non c'era il VAR, se no avrebbe dato il rosso a gatti. Facendo pure la battuta sul VAR che non aveva funzionato molto. Ma vi ribadisco, vedere queste immagini da tifosi della Juventus mi riempiono il cuore. Ma veramente mi riempiono tanto il cuore. E sono veramente orgoglioso di poter dire che quella è la mia squadra. Quella è la mia squadra. Quella è la squadra per cui tifo, per cui simpatizzo e per cui mi faccio il sangue amaro ogni fottuta domenica, ogni fottuto weekend io sono qua, ogni fottuto giorno sono qua a parlare insieme a voi. Ed è questo che voglio vedere. Vedere queste cose a me rende felice. Cioè ne vale la pena tutta la fatica che si fa qua. Tutta la fatica che faccio con piacere, eh? Attenzione, se è chiaro. Però mettersi qua a parlare di una squadra che ci sta facendo tornare a emozionare vale tutto quello che stiamo facendo. Vale qualsiasi cosa. Io vi ho detto un po' più o meno come è la situazione. Vi ho raccontato, vi ho specificato quello che ha approvato a me. Quello che mi ha fatto approvare a me questa foto. Io vi ricordo di dimmi la vostra, commentando, dicendomi quello che voi avete provato e anche magari qualche soluzione, ribadisco sui temi precedenti. Vi ricordo, vi invito a iscrivervi al canale, commentate, un like, un dislike, fate quello che volete. E noi ci vediamo nel pomeriggio, sperando la connessione torni, sia chiaro. E niente ragazzoli, ci sediamo, ci vediamo e ci sentiamo presto. Ciao.